Mi spiego perché. L'articolo si può leggere solo sul cartaceo e questa mattina sull'online del Fatto Quotidiano Facebook e Twitter è stato pubblicato solo il titolo e le persone si stanno arrovellando a commentare il titolo. Buongiorno a tutti. Allora, volevo parlarvi di questa cosa. Ieri ho rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano per cercare di analizzare i fatti di Ancona e di capire come non si possa ripresentare uno scenario del genere. Sono fatto un giro sulla pagina Facebook del Fatto Quotidiano e sul mio Twitter e il focus del dibattito si concentra sul fatto che io ho definito Sfere Basta un artista di serie A e di quanto gli artisti che ascoltano loro siano veramente artisti di serie A. E mi rendo perfettamente conto che un titolo al giorno d'oggi vale molto di più dell'articolo in sé. Però mi rendo anche conto che in questo momento le persone sono più interessate a dire che Freddie Mercury è meglio di Sfere Basta che ad approfondire la vicenda. Comunque per chi fosse interessato può leggere l'articolo sul cartaceo del Fatto Quotidiano dove cerco di spiegare come alcuni scenari erano più che prevedibili. E quando mi è stato chiesto, mi è stato chiesto se può essere imputabile un certo tipo di responsabilità morale nei confronti di Sfere. Io ho risposto no perché per quanto concerne le valutazioni su logistica, organizzazione, valutazione di rischi, sono tutte scelte che si delegano a Booking e Management che deve fare queste cose. Ho parlato anche di una cosa di cui parlo da un annetto, due annetti a questa parte, che è questa splendida usanza che abbiamo importato dall'America che è la moda della Lean, della Codeina. Che è un altro disastro annunciato di cui dovremmo prenderne tutti le dissi. Ho visto artisti della scena trap dire che la Lean non fa poi così male quando in America sono morte delle persone. E i ragazzini si fanno di Lean per emulare i propri idoli. Ecco, forse a questo punto, ad oggi, dovremmo essere un po' più responsabili perché la Lean in Italia non ha ancora ucciso nessuno. In America ha fatto strage. E so che toglie un po' di coolness al personaggio, ma forse in questo momento sarebbe giusto evitare disastri annunciati. E so che toglie un po' di coolness.